Un caro saluto a tutte e a tutti. È tempo di grandi mobilitazioni sindacali. Si stanno muovendo molte categorie, tra queste quella dei pensionati. Il primo giugno, è un sabato, ci sarà una mobilitazione, una manifestazione nazionale indetta dai sindacati, dai pensionati di CGL Cislewil. È una mobilitazione che sta crescendo, tant'è che all'inizio si era previsto di andare in Piazza del Popolo, si sposta in Piazza San Giovanni, una delle grandi piazze delle manifestazioni sindacali. Tradizionalmente, lo sappiamo, le grandi riunioni si fanno in una piazza molto impegnativa come San Giovanni. Perché questa mobilitazione? Perché i sindacati unitariamente hanno manifestato la loro insoddisfazione nei confronti del governo. Possiamo citare un dato. Voi sapete che dal primo gennaio di quest'anno doveva partire una indicizzazione più favorevole per le pensioni. Le pensioni non hanno notoriamente una contrattazione, non possono legarsi all'andamento dell'inflazione sulla base di un adeguamento, se non quello della perequazione. Con il governo Renzi, CGL Cislewil avevano stabilito un aggancio più favorevole. Questo governo lo ha tagliuzzato. È vero che il Premier Conte ha detto che non potete essere gli avari di Molière per pochi euro. Però quei pochi euro che riguardano milioni di pensionati alla fine, in tre anni, tolgono al valore delle pensioni una cifra che assomiglia a 3 miliardi e 600 milioni. Da qui una prima insoddisfazione. Il secondo punto che va segnalato è sicuramente il fatto che le pensioni italiane hanno un'alta tassazione uguale a quella del lavoro dipendente. È una anomalia rispetto a quello che capita in Europa. Poi non ci lamentiamo, c'è il solito tormentone, perché i nostri pensionati vanno in Portogallo o in altri paesi? Molto semplicemente perché la tassazione sulle pensioni è più bassa. E poi smettiamola di dire bugie sul costo delle pensioni in rapporto al prodotto interno lordo. Perché se in Italia si continua a calcolare il lordo della pensione, è evidente che questo significa un peso alto. Ma se si racconta la verità, si deve calcolare il netto e il nostro peso sarebbe più basso, allineato a quello che capita negli altri paesi. Sono modalità queste che preparano come al solito l'attacco al sistema pensionistico. Ma noi questo attacco non lo vogliamo. Benvenga la mobilitazione unitaria dei sindacati.